Sta arrivando sulla Terra, con note di ruggine, pulviscolo e aromi cosmici. Marte, un nuovo caffè per un nuovo mondo. Il suo gusto è proprio come quello di un caffè che diresti cresciuto su Marte. Perciò, prima di andare a coltivarlo su altri pianeti, prendiamoci cura del nostro. Per questo, la Fondazione Lavazza insegna ai produttori di caffè come coltivarlo in modo sostenibile. Così potremmo continuare a godercelo, sì, su questo pianeta.